In questo mercoledì 9 luglio un grande ritorno qui a Serin Festa, oggi è sola, meglio di tutto il suo splendore, abbiamo Sandy Show. Ciao Sandy! Ciao carissima, grazie sempre dell'invito ovviamente, grazie e saluto tutti i telespettatori che ci guardano. Come stai? Tutto bene? Bene, sì dai, tutto a posto. Sei nel periodo del lavoro, luglio? Sì, luglio è un bel mese, sono contenta, sì sì. E il tempo come va? Il tempo... Ci fa un po' arrabbiare. Ecco la pioggia, insomma, a parte col sole splendente, alla fine c'è sempre qualcosina. Speriamo che sia magari un agosto migliore di questo luglio che appena è iniziato. Esatto, esatto, mamma mia. So che in questo weekend da qualche giorno hai già degli appuntamenti, naturalmente. Sì, sì, ci troverete venerdì 11 luglio a Michelorie. Michelorie, è bene. Che mi appena, guarda, mi appena detto la data proprio bene, è bene, Michelorie, avevo scritto un'altra cosa. Giusto, giusto. E invece sabato 12 al MAC2, al MAC2, locale, dancing, esatto, quindi a Ezzale Miglia, insomma, chi vuole venire. Certo. Noi ci siamo. Non si sa mai che ci sia qualche appuntamento last minute che arriva, meglio sempre controllare il sito o la pagina Facebook. Sempre controllare il sito, esatto, www.orchestrasandy.com per essere sempre aggiornati oppure la pagina Facebook Sandy Show che io li scrivo sempre, quindi. Esatto, vedo che sei sempre aggiornatissima, non manca. Esatto. Bene, so che stai promuovendo la tua canzone, che ti piace molto. Esatto, sto spingendo questa canzone, la mia stella del mio bambino, la sto spingendo, ormai vedo che la gente piace, orchestre mi chiamano, che vogliono la base. Vogliono interpretarla, bello. Speriamo che, insomma, vada avanti così, sono contenta. Che sia un bel successo. Elisa Perin, aspettandoti finché ce l'ha attesa, poi se nasce qualche bimbo, allora va bene la tua, che la mia stella è già nata. Oppure il figlio che non ho. Aspè, quella, sì. Quella è già passata. Porta molto fortuna. Esatto. Le cantanti a volte non la vogliono fare, perché non è che dopo rimango incinta. Esatto, si sa mai. Il potere della musica a volte ha dei confini che non sappiamo. Eh sì. Bene, tra poco la sentiremo, perché l'abbiamo fatta proprio qui da noi in studio, dunque saremo curiosi di rivederla tutti insieme. E ricordiamo appunto la tua pagina Facebook e il tuo sito internet. Lo ridico così. Sì, diciamo un'altra volta che non si sa mai. www.orchestrasandy.com, scritto Sandy con la A ovviamente. Con la Y finale. Esatto, e alla pagina Facebook Sandy Show. Perfetto. E a proposito di appuntamenti consigliati, noi tra poco vedremo le nostre serate danzanti nei prossimi cartelli e subito dopo rientreremo guardandoci appunto il video di Sandy. Noi ti auguriamo un buon proseguimento. Grazie, grazie mille. Salutaci tutto il resto della band. Certamente, saluto tutti, anche loro ovviamente salutano tutte le persone che ci guardano, a te sereno ovviamente. Grazie Sandy. Tutti quanti. Buonestate. Grazie mille anche a te, grazie ancora. Alla prossima, ti aspettiamo. E ciao a tutto Telearena.